Buongiorno, bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6. Andiamo subito ad iniziare il nostro programma partendo dal Santo del Giorno. La chiesa oggi vennera Santa Bernadette Subiru quando l'11 febbraio del 1858 la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette presso la rupe di Massibiel sui Pirenei francesi. Questa aveva compiuto 14 anni da poco più di un mese. Era nata infatti il 7 gennaio del 1844. A lei povera ed analfabeta apparve più volte la signora nell'apparizione del 25 marzo 1858. Questa ha rivelato il suo nome dicendo di essere l'Immacolata Concezione e quindi dando il là al miracolo di Lourdes. Quattro anni prima Papa Pio IX aveva dichiarato l'Immacolata Concezione di Maria un dogma ma questo Bernadette non poteva saperlo perché appunto era analfabeta. La lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbe dopo accurata inchiesta consacrava per sempre Lourdes alla sua vocazione di santuario mariano internazionale. La sera del 7 luglio 1866 Bernadette Subiru decide di rifugiarsi dalla fama a San Gildà casa madre della congregazione delle suore della carità di Neve. Ci rimarrà 13 anni morirà nel 1879 a causa di asma tubercolosi e un tumore osseo al ginocchio. Iniziamo la nostra rassegna stampa con i quotidiani regionali. Andiamo subito sul quotidiano Il Centro per le prime quattro pagine delle quattro edizioni provinciali. Allora questa l'edizione di Pescara derubavano i genitori per la droga il titolo di apertura sgominato uno spaccio tra minorenni 21 persone nei guai. Poi nelle cronache Luca Sarodi nel mirino del fisco Equitalia l'avvocato paghi 702 mila euro. Il penalista Luca Sarodi finisce nel mirino di Equitalia una richiesta di 702 mila euro con una cartella per presunta evasione fiscale di circa 2 milioni di euro verificata dalla Guardia di Finanza con pignoramento di beni, conti e crediti verso terzi. Lui si difende. Sono calcoli fatti per via induttiva applicando una liquota media e un numero medio di udienze. Farò ricorso. In ogni caso non posso pagare. E poi dopo la denuncia del Centro in Assa Medicina avvia i pazienti dal corridoio. Blitz dei Carabinieri del Nasse ieri mattina nel reparto di medicina dell'ospedale. Dopo la denuncia del quotidiano sui posti letto in corridoio i pazienti ricoverati sono stati trasferiti negli altri reparti dell'ospedale o nelle cliniche Pierangeli e Villa Serena. Ma il problema sovraffollamento resta. Al pronto soccorso arrivano troppi utenti anche dalle città vicine. Impenne plebiscito in assemblea e i lavoratori dicono sì all'accordo Brioni. E poi a centropagina il calcio. Ieri si è giocato l'anticipo tra Pescara e Cesena. Terza vittoria di fila per i biancazzurri che sono definitivamente usciti dalla crisi. La padula gol spettacolo. Il Pescara piega il Cesena e balza al terzo posto. I tre punti regalati da un vero e proprio euro goal di Gianluca la padula. E poi nello spazio dedicato alle idee l'articolo di Vittorio Emiliani la svolta con le fonti rinnovabili. Si parla ovviamente a tutto tondo del referendum di domani. E poi ecco i grillini di lotta e governo e la riflessione di Bruno Manfellotto. Nel taglio basso, come sempre, il Buongiorno Abruzzo firmato questa mattina da Antonio De Frenza, il medico della mutua a 16 ore al giorno. Si rifà ovviamente questo articolo alla notizia che riguarda i medici di base che dovranno allungare il loro periodo e il loro orario di apertura. Andiamo sotto la testata del centro. Referendum, la scelta, trivelle, ultimi appelli, la battaglia del quorum e poi emergenza migranti. Il Papa sbarca nell'isola di Lesbo, un monito per tutti i paesi. Andiamo avanti con le prime pagine del centro. Questa è l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Bimbo salvato, festa per i pompieri, ripatiati nel sindaco Rucci. Manuele vivo, grazie al loro coraggio. La notizia è quella di un bambino che è precipitato in un pozzo per una ventina di metri. La caduta è stata attutita dall'acqua e è stato poi salvato da un vigile del fuoco che si è calato con una fune all'interno del pozzo. Nelle cronache, reparto trasferito ad Ortona, la dermatologia lascia il poni clinico. Dermatologia trasferita dal poni clinico al Bernabeo di Ortona, dove ci sarà anche il centro per la cura dei melanomi. Novità in arrivo per l'ospedale ortonese, dove a febbraio è stato tagliato il nastro per l'inaugurazione del reparto di oncologia donna e dove tra un paio di mesi arriveranno altri due importanti reparti e servizi nell'ambito della cura delle malattie oncologiche, la dermatologia e il centro melanomi. In Vasto, inseguiti fino in Molise in fuga sull'autostrada con il furgone rubato di un arresto e due denunce, il risultato dell'operazione della stradale Vasto Sud che sulla 14 ha intercettato un autocarro segnalato per furto, il conducente aveva fatto il pieno di carburante e si era allontanato senza pagare. Gli agenti hanno agganciato il mezzo diretto a sud, il guidatore accelerato iniziando a zizzagare, il lungo inseguimento è terminato in Molise. E poi nello sport oggi a Latina la Virtus va a giocare una sfida salvezza contro l'ex allenatore Gautieri. A centro pagina la fotonotizia, i funerali dei coniugi morti sull'asse attrezzato, addio a Rose ed Alfredo sulle note del miserere. Cattedrale di San Giustino affollata per i funerali della coppia amatissima in città che ha trovato la morte nel pomeriggio di lunedì scorso mentre a bordo della storica 500 rossa di famiglia stava raggiungendo uno dei figli. Mamma e papà, detto Mirko, hanno dedicato la loro vita agli altri. L'addio alla coppia che ha vissuto all'insegna dell'amore per il prossimo si è concluso sulle note del miserere. Invasto, morto a tre anni, mistero, San Salvo, l'autopsia esclude il decesso per la caduta. Si parla della morte del ragazzino, del bambino di tre anni trovato senza vita nella sua cameretta a San Salvo. Andiamo avanti con il centro. Tancredi e Gatti, ricompattiamoci questa l'apertura della pagina di Teramo. Brucchi a rischio, il deputato NCD fa un appello a lavorare di squadra, ovviamente a tenere banco la crisi della maggioranza che governa, la maggioranza di centrodestra che governa la città di Teramo. Nelle cronache, la crisi si aggrava a Tortoreto e il sindaco pronto a dimettersi. Peggiora la crisi di maggioranza a Tortoreto e qualcuno parla già di dimissioni imminenti da parte del sindaco Alessandra Ricchi. Ieri mattina, infatti, tre dissidenti hanno rimesso nelle mani del primo cittadino delle proprie deleghe, l'assessore Rosella Di Pangrazio, quella al bilancio, Fabrizio Di Febbo, quella sulle attività produttive, Federico Di Lorenzo, quelle sul demanio e sull'informatizzazione. A Santomero, il fegato di una ottantenne salva un giovane gesto di grande umanità dei familiari di un'anziana di Garrufo colpita da un ictus e ormai in coma irreversibile. Hanno dato l'assenso alla donazione del fegato della congiunta che all'ospedale Val Vibrata di Santomero è stato espiantato dai medici del Tor Vergata di Roma e trapiantato su un uomo di 40 anni che avrà ora una nuova speranza di vita. In Giulianova, fitti mai pagati, l'Istituto Castorani fa causa al Comune. A centropagina, un gesto inqualificabile nella fotonotizia, falso allarme bomba, asilo nido sgomberato. È successo all'asilo nido Coccinella di Piano Solare che è stato sgomberato per un falso allarme bomba ieri mattina. E poi, sempre nelle cronache di Teramo, Toga Parti, caso chiuso, Tortoreto archiviata l'inchiesta sulla festa molesta. Ora andiamo a vedere la prima pagina, sempre restando al centro di L'Aquila Avezzano sul Mona. Appestato perché sventa un furto il titolo di apertura. Avezzano commesso aggredito dal marito della donna, sorpresa a rubare. Nelle cronache ospedali, liste d'attesa, la ASL telefona ai pazienti. Una spirometria lunga fino a febbraio 2017. L'andazzo non cambia, ma l'ASL, nella foto vedete il manager Tordera, prova a ridurre le liste d'attesa con 600 telefonate a settimana per richiamare gli utenti a ridosso del giorno fissato, recuperare le prenotazioni che vengono disertate e fare spazio ad altre persone. L'ASL ha organizzato il servizio recall, chiama i pazienti a casa. E poi sul Mona il mercato trasloca durante la giostra sarà ufficializzato da una delibera del commissario prefettizio Giuseppe Guetta. Il prossimo trasloco del mercato da Piazza Garibaldi al ponte Capograssi, nell'incontro in comune è arrivato l'accordo su una questione che stava generando parecchio malcontento tra gli addetti e i lavori, scatenando anche reazioni fuori controllo come quelle registrate giorni fa al mercato. E poi lo sport in rugby, salvezza lontana per l'Aquila a Cappoa a Piacenza, ora serve un miracolo. A centro pagina l'Aquila lavora addirittura da arrivo Melandri, Battezza e il Maxi a Palazzo Argindelli. Finiti i lavori che finiranno entro giugno. Restaurato il palazzo con i fondi della Federazione Russa e come noto già da tempo destinato a diventare sede di staccata del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo più noto come Maxi. E poi sempre in l'Aquila bovini rubati test del DNA, accertamenti sui vitelli dei capi trafugati. Lasciamo il centro, adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina del messaggero dell'inserto Abruzzo. Titolo di apertura Dragaggio, 13 imputati, falso e turbativa d'asta le accuse contestate a Guirino Testa, a tecnici ed imprenditori. Trasparenza violata, dice il PM, l'ex presidente della provincia, a novembre dal GUP, dal giudice dell'udienze preliminari. E poi Pescara, l'aretata, spunta la droga dietro il botto al circolo e il Ueco indagano sull'attentato dinamitardo del 9 gennaio 2015 ai danni del circolo di Città Sant'Angelo e scoprono una fitta rete di spaccio di droga, venti le misure cautelari a Pescara. E poi banche, tassi da usura e la casa non va all'asta. La decisione della procura, Zanetti rassicura i risparmiatori. Ieri all'Aquila è arrivato il vice ministro all'economia. E poi i funerali dei coniugi morti sull'asse attrezzato a Chieti l'addio con il miserere. A centropagina la Serie B, il Bomber stende 1-0 il Cesena, Pescara ci pensa la Padula con un super goal in rovesciata. Il Bomber ha portato a casa i tre punti per il Pescara ieri nell'anticipo di Serie B. Di spalla, Guardia Grele torna tra i borghi più belli d'Italia. L'annuncio dopo sette anni in attesa a giugno la grande festa. E poi nel taglio basso, momento no, Brucchi, crisi ed incidente. Decisamente momento no per il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi alle prese con la crisi di maggioranza aperta dalle dimissioni dell'assessore Giorgio Di Giovanni Giacomo. Ieri è rimasto vittima di un incidente stradale mentre si stava recando a bordo della sua auto a Città Sant'Angelo all'incontro con Mara Carfagna. Tanta paura ma nessuna conseguenza. Tutto mentre in comune scoppia la guerra tra Forza Italia e la Civica al centro per Teramo. Andiamo sotto la testata, il giorno e la notte, l'ora del rosario da lunedì, tre serate pescaresi per Fiorello e poi il teatro chiude la stagione con la Monti e la Finocchiaro sempre per quanto riguarda Pescara e poi ancora l'Aquila ritrovata, Palazzo Ardinghelli, ottimo per il Maxi, dice la Melandri. Cambiamo ancora una volta testata, restando ai quotidiani regionali, adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo. Eccola qui, tutti invocano l'azzeramento, il titolo di apertura e non poteva essere diversamente, riguarda la crisi di maggioranza al comune di Teramo. Fratelli d'Italia tende la mano a Brucchi, prove tecniche per andare avanti con un'altra giunta. Un'altra crisi di governo a Tortoreto, i dissidenti riconsegnano le deleghe al sindaco Ricchi e poi andiamo a vedere di spalla Tortoreto, Toga Parti, inchiesta archiviata, ad altri cancelli sbarrati alla società di calcetto, a Nereto ha arrestato lo spacciatore della Movida. A centro pagina la fotonotizia, allarme asilo, a Teramo scuola evacuata dopo un'allarme bomba fasullo. E poi ferie pagate al funzionario pensionato, Giulia Nova, la minoranza si solleva e un atto illegittimo. Nel taglio basso, disabilità, il turismo accessibile e fa economia servono i professionisti, non la retorica. Troviamo anche l'editoriale firmato dal direttore Alessandro Misson. Potere assoluto è il titolo dell'editoriale che parla dell'incontro di ieri che c'è stato a Pescara sui social network e sul rapporto con la pubblica amministrazione a cui ha partecipato anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere i principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. I migranti in primo piano avviso all'Austria, l'emergenza. In una settimana 6.000 arrivi, Mogherini missioni in acque libiche solo se ce lo chiedono. Renzi, il Brennero è un simbolo, Vienna rispetti le regole, Eurobond per i fondi per finanziare questa emergenza. E poi nel taglio alto Parisi risale ed è un passo da sala, testa a testa nella sfida per Milano. PD primo partito nel ballottaggio, il candidato democratico avanti per quanto riguarda le elezioni a Milano. Andiamo adesso sulla Repubblica. Eurobond ai paesi africani, così fermeremo i migranti. Il piano italiano alla Unione Europea sbarchi. 6.000 in una settimana a gelo tra Roma e Vienna per quanto sta accadendo al Brennero. E poi Trivelle battaglia sul quorum. Renzi un voto contro il lavoro per quanto riguarda il referendum che si svolgerà domani. La fotonotizia in Germania. Governo diviso. Merkel si arrende a Erdogan. Quel comico va processato. Andiamo avanti. Il messaggero. Stop ai migranti. Piano dell'Italia. La proposta del governo all'Unione Europea per arginare in Africa i flussi. Risorse dagli Eurobond. Sbarchi in aumento del 25%. Renzi avverte l'Austria per il Brennero. Ci faremo sentire. Scendiamo a centro pagina. Il crack delle banche. Svolta con indennizi al 90% dei clienti. E poi il processo Uva. Assolti agenti e carabinieri. L'accusa era di aver ucciso l'uomo dopo l'arresto. L'ira dei familiari dopo il processo. Andiamo sul tempo adesso. Protestano ma non pagano. Ecco i debiti dei centri sociali. Affittopoli mai versati al Campidoglio. 20 milioni. Record a Spinaceto. Viaggiano i palazzi occupati e pericolanti. Tronca. Dice vanno sgomberati. Questo per quanto riguarda la capitale. Sempre per quanto riguarda la capitale. La guerra sul simbolo di Roma. Addio al logo di Marino. Torna SPQR. A centro pagina. Così abbiamo ripescato 180 immigrati in fondo al mare. Il racconto dei militari della Croce Rossa. Altri 700 salme da recuperare negli abissi. E poi il processo Uva. nessun pestaggio in caserma. Assolti poliziotti e carabinieri. Per quanto riguarda lo sport. Squalifica ridotta per l'attaccante del Napoli. Guain giocherà contro la Roma. Adesso ci spostiamo sull'unità. Cambiate tutto. Il governo ha inviato a Bruxelles il Migration Compact per dire basta. Improvvisazioni. Papa Francesco oggi sbarca sull'isola greca di Lesbo tra i migranti, di volontari e i cittadini. Così il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico che a centro pagina con la fotonotizia torna sul caso Giulio Reggeni che escuote il mondo. Scrive il giornale L'Unità. Mattarella dice nessuno dimentichi quello che è accaduto al ricercatore italiano in Egitto. Il manifesto. Il popolo sovrano è il titolo di apertura. Dopo aver acceso la miccia della stensione, ora Renzi addirittura concede di accettare il risponso delle urne. Noi rispetteremo il voto degli italiani senza fare polemiche. Ha detto il Premier una dichiarazione che la dice lunga. Scrive il manifesto sulla coda di paglia del primo ministro. Domani si vota anche contro l'arroganza del governo. Questa è la posizione nettamente per il sì del manifesto. Poi l'ira di Renzi. L'Austria rispetti le regole. Migranti. Missione europea pronta ad entrare nelle acque libiche. Andiamo adesso a Libero. Cambiamo campo. Ci spostiamo in quello del centrodestra. Referendum sulle trivelle. Renzi rischia la galera. Un articolo del codice ribadito dalla Cassazione stabilisce una pena da sei mesi a tre anni per chi fa propaganda a favore dell'astenzione. È proprio quello che sta facendo il Premier in vista del voto di domani. Grillini denunciano lui e Napolitano. E poi Morales fa lo spot alla cocaina con il Papa. Libri sulla droga invito a consumarla in Vaticano. Dopo il crocifisso falce e martello Francesco si lascia di nuovo usare dal boliviano. Questa è la posizione di Libero. Andiamo sul giornale adesso. Dilettanti allo sbaraglio. Canone governo nel caos. Dopo la bocciatura l'esecutivo cerca uno stratagemma per salvare la tassa. Figuraccia del Premier sposta il San Gottardo in Italia. E poi domani si vota. Referendum sulle trivelle. Mattarella si smarca dall'asse Renzi-Napolitano. Il fatto quotidiano. Sempre il referendum in primo piano. Renzi perde la testa per i sì. Dai numeri e inventa tunnel. Straparla di 11 mila operai a rischio e annette il Gottardo all'Italia. Invece il Gottardo è svizzero. Poi Erdogan ordina alla Merkel che esegue satira censurata Realpolitik dopo l'accordo sui migranti. Il processo ad un comico tedesco. A centropagina Veleni-Eni. Relazione falsa. Indagato il perito dei PM. Potenza De Giorgi. Corvi contro Di Me. Vogliono pilotare le nuove nomine per quanto riguarda l'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti nell'impianto di Vigiano che ha coinvolto anche l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. Andiamo a vedere il Gazzettino, scusate, quotidiano del Nord-Est perché è importante capire anche la posizione del Nord-Est per quello che sta accadendo in Brennero. Il Nord-Est contro Vienna. Ultimatum dell'Unione Europea all'Austria. Bruxelles valuta i chiarimenti inviati. Possibile la procedura di infrazione. La Confindustria Triveneta. No alla chiusura sarebbe un grave danno. In campo anche i Vescovi. E poi il referendum sulle Trivelle. Battaglia finale. L'affondo di Renzi. Questo il titolo. Andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Trivelle duello al battiquorum. Renzi a rischio 11.000 posti di lavoro. Emiliano nessun premio. Era detto astenetevi. Inchiesta di potenza sul petrolio. Le pressioni di De Filippo per le assunzioni. Andiamo al mattino di Napoli. Campania e il piano ospedali. Chiudono i centri nascita a rischio. Via alla rete unica per l'emergenza. Insomma, i tagli sulla sanità non sono soltanto nella nostra regione che è commissariata, così come la Campania. E poi Beffa Iguain tolta una sola giornata per quanto riguarda il calcio e il ricorso sulla squalifica del bomber del Napoli. Ancora referendum Trivelle. Scontro sul quorum di Maio. Se me lo chiede la rete. Pronto a candidarmi. Premier per quanto riguarda i 5 Stelle. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa della cronaca nazionale. Apriamo la pagina dedicata allo sport rapidamente prima di passare al meteo. La gazzetta dello sport con i principali, il primo dei principali quotidiani nazionali sportivi italiani che andiamo a vedere. L'ultimo treno Milano 20 e 45. Inter Napoli che rischia tutto. Entrambi a meno 6. Mancini dalla Champions, Sarri dal titolo. I due si ritrovano dopo la turbolenta notte di Coppa Italia. All'insegna del fair play dicono stringiamoci la mano. E poi la scalata al Milan. Il club può finire ai cinesi in due mesi. Parla Salvatore Galatioto, il mediatore italo-americano che tratta con Berlusconi. Il gruppo a persone di alto livello e grandi ambizioni. Il brand rosso-nero è fantastico. Andiamo avanti. Corriere dello sport. Napoli furioso. Tolto un turno ad Higuain. L'ira del club chiedeva la riduzione di due giornate. Delusi profondamente il Pipita con la Roma. Però ci sarà. Brividi a San Siro. Stasera Sarri ritrova Mancini per quanto riguarda la partita Inter-Napoli. E poi le semifinali di Champions. Il ciolo per Guardiola che sfida tra opposti Atletico Bayern e Real con il City. La Serie B ancora pari. Crotone. Festa rinviata per quanto riguarda la promozione. Invece il Pescara vola con un gol di Gianluca Lapadula. Per quanto riguarda la Juventus. La Juve sorride. Rientro di Di Bala. Emozione a Palermo. Infortunio superato in campo contro la squadra dove è diventato grande. Sotto la testata i cinesi scalano il Milan ma Berlusconi fa muro. Il Cavaliere vorrebbe mantenere il controllo della società e la valutazione di 750 milioni non lo convince. Ultima pagina dello sport. Il tutto sport si allegri e il migliore. Gianni Petrucci interviene su tutto. Nessuno è bravo come lui. Vince con normalità e senza lamentarsi. I condizionamenti arbitrali non esistono. Che occasione il preolimpico di basket a Torino? Adesso andiamo al meteo con il collegamento con Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora che tempo farà nel weekend a te? Nel fine settimana Alfredo saremo interessati, continueremo anzi ad essere interessati dalla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, quindi anche sulla nostra regione, ma favorirà anche un deciso aumento delle temperature perché sono in arrivo masse d'aria calda proveniente dall'interterra algerino e tunisino che nelle prossime ore inizieranno a raggiungere proprio la nostra regione, favorendo un deciso aumento delle temperature anche a causa dei venti che tenderanno a rinforzare, a provenire dai quadranti sud-occidentali, il garbino che si manifesterà soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, quindi nel pomeriggio sera assisteremo un ulteriore aumento delle temperature soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, sulle zone alto-collinari, collinari, ma localmente anche lungo la fascia costiera con un rinforzo dei venti dai quadranti sud-occidentali, però il cielo risulterà nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con ampiezione di sereno al mattino, ma con il passare delle ore inizierà nuovamente a aggiungere una nuvolosità alta e stratificata accompagnata dalla presenza di sabbia africana in sospensione che soprattutto nella giornata di domenica dovrebbe coprire, raggiungere comunque anche la nostra regione, favorendo annuvolamenti e il classico cielo lattiginoso provocato appunto dalla presenza di sabbia africana in sospensione, non sono previsti fenomeni sulla nostra regione, temperature ben al di sopra delle medie stagionali con valori superiori anche a 12-13 gradi rispetto alle medie trentennali, quindi una situazione questa molto particolare quella prevista sulla nostra regione, non ci saranno sostanziali cambiamenti nei prossimi giorni, anche nei primi giorni della prossima settimana continueremo ad essere interessati comunque da quest'area di alta pressione prevista in ulteriore rafforzamento nel corso della prossima settimana, anche se tra lunedì e martedì comunque sembra probabile una temporanea diminuzione delle temperature e dai primi giorni della prossima settimana aumenta la probabilità di nebbie invece lungo la fascia costiera, questa è una situazione da segnalare ma comunque vedremo se confermare questa eventualità, intanto quindi confermo il fine settimana caratterizzato da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Grazie Giovanni De Palma, avete visto il sito di Abruzzo Meteo, l'ho continuata a vedere in questo istante con la regia di Claudio Di Giacomo, questo è il sito di riferimento abruzzometeo.org.it per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione, andiamo a vedere anche le pagine Facebook, questa è quella di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora Giovanni, ti auguro un buon fine settimana, una buona giornata e un buon proseguimento di lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie ancora, allora ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dalla pagina Abruzzo del centro. La nuova organizzazione sanitaria Medici di Famiglia è in studio, 16 ore al giorno per 7 giorni. Le regioni approvano le linee di indirizzo delle convenzioni con i sanitari di base, il singolo professionista si appoggerà ad una rete di colleghi, novità anche per il CUP. Attenzione al territorio, il sistema si adatta ad una domanda di salute che sta cambiando. Dirigenti medici, riposi obbligatori e carenza di personale, i principi e le norme che regolano l'orario di lavoro e la durata minima dei riposi sono ancora oggi uno degli argomenti più dibattuti nel contesto del ruolo della dirigenza medica e sanitaria. Se ne è parlato in un convegno dell'Associazione dei Medici Ospedalieri per anni, dice il segretario regionale Filippo Gianfelice, legislatore italiano ha irragionevolmente cercato di negare ai dirigenti medici e sanitari il diritto ad evitare eccessi lavorativi e ad usufruire dei riposi. Di spalla il trasporto locale, il 19, ci sarà un presidio della Filt CGL davanti all'emiciclo in occasione della seduta straordinaria del Consiglio regionale proprio per discutere dei trasporti. E poi novità per quanto riguarda il Cresa di Vincenzo e il nuovo presidente. Andiamo avanti. Crack banche, Zanetti rassicura sui rimborsi il viceministro a pizzoli, i piccoli risparmiatori potranno essere risarciti ma il comitato contesta l'arbitrato previsto oltre una soglia di investimenti. Allora andiamo a vedere insieme la visita di ieri all'Aquila del viceministro Zanetti nel servizio di Filippo Tronca. Intensa giornata aquilana per il viceministro all'Economia e alle Finanze e segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. Primo appuntamento assieme all'onorevole Giulio Sontanelli, l'incontro con una delegazione del comitato difesa risparmiatori, banche truria di pizzoli che hanno perso tutti i loro risparmi con il crack dell'istituto di credito. Poi l'incontro istituzionale a Palazzo Fibioni con il sindaco Massimo Cialente e con il presidente della Gran Sasso Acque a Merico di Benedetto con cui ha visitato l'area di cantiere dello Smart Tunnel. Zanetti ha portato buone notizie ai risparmiatori di banche truria. Il decreto che consentirà i rimborsi sarà approvato la prossima settimana. ...che passa la linea che era stata anche portata avanti, in particolare dall'onorevole Soltanelli di Scelta Civica con un emendamento col quale si chiedeva di superare il tetto di 100 milioni. Cosa prevede in soldoni? Prevede in soldoni che tutti quelli che non sono stati adeguatamente informati o addirittura truffati riavranno i loro soldi per intero senza detti come è doveroso che sia. Soddisfatto il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio. Dalla risposta del vice ministro Zanetti si capisce che la sensibilità al governo rispetto a questi problemi è cambiata. Questo cambiamento poi verrà sancito con il decreto che lui stesso ha detto la prossima settimana dovrebbe uscire e dovrà contenere i criteri con i quali poi verranno stabilite le modalità di rimborso di questi soldi. Zanetti si rallegra poi per come sta procedendo la ricostruzione possismica aquilana e allargando lo sguardo a temi di scottante attualità promette che gli italiani che hanno aperto un conto a Panama smascherati dall'inchiesta giornalistica internazionale dei Panama Papers saranno oggetto di rigorosi controlli fiscali. Poi ci sono tanti italiani che invece i soldi li portano a Panama. Quegli italiani che li portano a Panama, che erano italiani che prima ancora più comodamente li portavano in Svizzera, cosa che non possono più fare perché il nostro governo ha finalmente fatto superare il segreto bancario svizzero, li hanno portati a Panama, adesso saltano fuori dei nomi interessanti, l'agenzia delle entrate sta lavorando. Andiamo avanti, turismo e qualità della vita. Guardia Grele torna nel club dei borghi più belli d'Italia. Ieri l'annuncio fatto alla provincia di Pescara. E poi Forza Italia posti in piedi per Mara Carfagna, Montesilvano, l'ex ministro alla manifestazione elettorale del partito, l'Abruzzo in cattive mani, dobbiamo tornare al governo, ha detto Mara Carfagna. E poi Regione al via Liter per la nuova legge urbanistica. Notizia che ritroviamo anche sulla città perché proprio il titolo che apre la pagina Abruzzo è Via alla nuova legge sull'edilizia. Per l'assessore regionale Di Matteo quella attuale è obsoleta e antinorma. Linee guida saranno contivise e in sintonia con i progressi socio-economici legati al territorio. E poi nel taglio basso, spaccio di droga in 12 rinviate a giudizio tra i clienti, persone facoltose e giovani frequentatori dei locali notturni. Notizia che arriva da San Benedetto del Tronto. Andiamo adesso sulla pagina Abruzzo del messaggero. Blitz di D'Alfonso sulle nomine. Decido tutto io. Il presidente, atto necessario per la legge, sono il responsabile. Il forzista Paolo Gatti dice violate decine di norme, battaglia in consiglio e denunce se serve. E poi referendum De Santis sì per cambiare, Tiberio no per il lavoro. Questo per quanto riguarda il referendum di domani. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere la pagina di Pescara. Professionisti in difficoltà. Un caso clamoroso Equitalia dall'avvocato Sarodi che gli deve 702 mila euro. Il penalista avrebbe evaso il fisco per circa 2 milioni di euro tra il 2013 e il 2015, ma lui si difende. Sono calcoli induttivi e farò ricorso così mi distruggono. Agenzie delle entrate. Il 2 maggio in Abruzzo arriva il camper per aiutare i cittadini e spiegare la dichiarazione dei redditi precompilata. Poi di spalla, incarico da affidare, pronto il bando per il piano del traffico metropolitano di Pescara. Andiamo avanti. Scoperta la rete dello spaccio. Minorenni indebitati per pagarsi la droga. Minacciati dagli spacciatori rubavano in casa. Sono 21 le persone finite nei guai e arrestato per la bomba a El Hueco. Le inchieste sono legate. Incastrato dalle telecamere il responsabile dell'attentato al circolo privato era un concorrente. Andiamo a vedere insieme, proprio su questa operazione dei carabinieri di Pescara, il servizio di Paolo Renzetti. 18 provvedimenti cautelari e 5 perquisizioni nei confronti di uno degli autori del danneggiamento mediante ordigno esplosivo del pub El Hueco di città Sant'Angelo e di giovani responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Pescara. Questi numeri salienti dell'operazione portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di penne coordinati dal maggiore Massimiliano Di Pietro e dal capitano Alessandro Albano. Sono due attività che poi hanno iniziato due compagini diverse del comando provinciale, cioè il nucleo investigativo e la compagnia di penne. Il nucleo investigativo aveva iniziato a lavorare dopo l'esplosione di un erdigno di fronte alla saracinesca del pub El Hueco di città Sant'Angelo a gennaio del 2015. Le attività si erano rivolte ai proprietari, a chi girava intorno a questo pub e oltre a darci degli indizi utili per trovare l'autore di questo gesto criminale ci ha fatto anche disvelare tutto un fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente la compagnia di penne aveva iniziato un'altra attività di spaccio di stupefacenti nell'area vestina e alcuni degli indagati delle due compagini dei due reparti dell'arma si sono sovrapposti, per cui ognuno ha portato avanti il proprio filone, il nucleo investigativo col Tribunale di Pescara, la compagnia di penne col Tribunale dei Minori di L'Aquila perché molti degli indagati all'epoca dei fatti soprattutto erano minorenni e siamo arrivati fino a oggi quando complessivamente siamo riusciti ad arrestare 20 persone. Abbiamo recuperato della droga sia oggi durante l'attività ma anche durante l'attività investigativa, quindi in questo anno abbiamo rinvenuto dei soldi, oltre 20 mila euro. L'attività prosegue, bisogna insomma capire anche qual è il livello superiore, cioè colore che fanno arrivare lo stupefacente in Pescara per poi essere smerciato sulla piazza. Andiamo avanti con la cronaca, però ci spostiamo sul messaggero, sempre la pagina di Pescara Dragaggio in 13 davanti al GUP, nel mirino l'appalto del 2011 per lo scavo dei fondali vinto dalla Gregoline e ceduto alla Dragaggi, trasparenza violata secondo i magistrati, tra gli indagati anche i due funzionari Ucci e Taraborrelli, per la procura c'era un cartello di società dietro quella gara. Andiamo avanti, nel taglio basso, poliziotto scomodo, anche il procuratore difende Pavone, malinteso con il questore, si torna sugli attacchi di D'Alfonso alla squadra mobile di Pescara. Andiamo, anzi torniamo sul quotidiano Il Centro e proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara. I NAS a medicina trasferiti i pazienti carabinieri in ospedale dopo la denuncia del quotidiano Il Centro e ricoverati in corridoio spostati in altri reparti e cliniche. E poi ospedale entro fine mese via i lavori, a luglio apre terapia intensiva pediatrica, l'iniziativa voluta dal progetto Noemi Onlus. Anche il procuratore capo si schiera con Pavone, notizia che abbiamo già visto sul messaggero. La lite con D'Alfonso De Siervo conferma la fiducia all'investigatore della mobile, i sindacati di polizia contro il questore perché avviare il processo disciplinare. E ancora i funerali a Sant'Antonio, l'addio a Rachele e Marcheggiani dal mondo musicale e culturale. Andiamo avanti. Azienda con 25 dipendenti vince ricorso contro la banca. Il Tribunale condanna la nuova banca Marche a cancellare dalla blacklist la società Pathos a redi per bar dopo un fido da 100 mila euro subito revocato. Ora la pagina di Montesilvano. Igiene urbana parte il nuovo appalto, il Comune cambia registro e approva il porta a porta. La giunta Maragno dà l'ok alla delibera di indirizzo per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, chiusa l'era tra deco dopo due anni di sanzioni e di servizi. Domenica, cioè domani per il referendum, i vigili saranno tutti impegnati nei seggi e dunque non si farà riviera in festa. C'è scarsa disponibilità di agenti municipali a Montesilvano e dunque riviera aperta e non chiusa come le altre domeniche. Tricomedit, il Comune impone lo stop per 5 anni. Città Sant'Angelo, dopo il dissequestro del centro per il trapianto dei capelli, l'amministrazione ha bloccato l'attività per mancanza di autorizzazione. E poi a Montesilvano i bambini si affidano a calcetto oggi e domani a Porto Allegro. Si inaugura stasera il primo club con il nome del bomber Gianluca Lapadula. Andiamo avanti ancora. Apriamo la pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Di Giovanni in testa, tra i consiglieri ideali, in ascesa a Cettella. Francavilla, 5 liste in campo con 3 civiche a sostegno del sindaco uscente, massimo riservo sui nomi dei candidati. E poi a Manopello, Pificio Toto in consiglio. Ritorniamo a Francavilla, Stadio del Mare. Si parte con i lavori, apre la prossima settimana il cantiere nella parte sud della città per il nuovo impianto polivalente da 350 mila euro. Nel taglio basso, Annelisa Palozzo nel consiglio dell'Aicre. E poi a San Giovanni Tatino, Marinucci chiarisca il caso del museo. è quello che chiede il candidato sindaco dei Cinque Stelle, Mario Cutrupi. La pagina di penne popole dell'Alta Val Pescara. Accordo Brioni, sì, dei lavoratori. È stato un prebiscito a favore della bozza d'intesa con 154 suberi che tornerà al vaglio del Ministero per quanto riguarda la Brioni Roman Style. E poi la Loreto Aprutino, a fuoco due mezzi in un'azienda agricola. Sempre a Loreto, un ex operaio è stato trovato morto, un 55enne che si è lanciato dal balcone. Poi Pesco Sansonesco, invalidi del lavoro, domani il raduno. Andiamo sulla pagina di Chieti. Ultimo saluto ai coniugi. Cattedrale e Dremita. Mamma e papà, una vita per gli altri. Lacrime e dolore. Al funerale di Rose d'Alfredo. Morti nell'incidente sull'asse attrezzato. L'addio sulle note del miserere. E poi si butta nel fiume salvata da due poliziotti. L'ha notata un camionista mentre spiccava il volo dal ponte delle fascine per gestarsi nell'acqua del fiume. Sono arrivati i soccorsi che sono riusciti a salvarle. Poi vigili in festa per il salvataggio di Manuel. Ripatatine. Il sindaco vuole premiare i pompieri che hanno ripescato il ragazzo 13enne caduto nel pozzo. Andiamo sul messaggero adesso. Andiamo a vedere qualche altra notizia da Chieti e provincia. Andiamo nel taglio basso. Controlli per le sale slot di Primio all'antimafia. Questa è la proposta del sindaco di Chieti, Umberto di Primio. E poi la pagina di Lanciano Vastortona. L'autopsia conferma nessuna violenza sul piccolo Alessandro. Non c'è stata responsabilità o negligenza da parte del padre. La morte del bambino sarebbe da attribuire a un malore. L'esame eseguito dal dottor Falco non ha ravvisato ematomi né fratture. Oggi pomeriggio i funerali del bambino che aveva poco meno di tre anni. A Lanciano i consiglieri assenteisti si controllano su internet. E poi a Vasto, auto a fuoco nei campi e quella dei rapinatori della gioielleria. Ricorderete qualche giorno fa la rapina alla gioielleria a foglie d'oro nel Superstore Pianeta. Sempre a Vasto, sfratti, sale la tensione e poi la proroga. Nel taglio basso, Ferrante, la fiera dell'agricoltura, un settore che non conosce crisi. Fiera che ci sarà dal 23 al 25 aprile. E poi a Ortona, famiglie senza acqua e l'Odissea. Senza acqua, l'Odissea è terminata. Andiamo restando sempre al messaggero sulla pagina dell'Aquila. Crack, Banche, Trulio e il governo rassicura. Zanetti, l'abbiamo visto in precedenza anche nel nostro servizio, incontra i componenti del comitato di Pizzoli. La settimana prossima arriva il decreto per i risarcimento. Rimarrà la logica del caso per caso, ma per chi ha versato piccole somme, prevarrà la presunzione di inconsapevolezza. E poi, mobile pignorato, salta l'asta in extremis, provvedimento della procura per l'avvocato difensore. La banca applicato, tassi, usurai. Nel taglio basso, conto rivisondoli, nessuna resa dei conti. Confindustria d'Aquila diserta il direttivo regionale e ballone minimizza. Andiamo avanti. La Melandri, soddisfatta, Palazzo Ardinghelli, fantastico per il Maxi, la visita del presidente dello storico edificio. Prima di affrontare la riunione tecnica per l'attivazione della sede di staccata, scuola internazionale, il sindaco annuncia il via libera all'operazione per quanto riguarda la rinascita culturale dell'Aquila. Poi il restyling del parco giochi in Piazza Italia. Oggi ci sarà il taglio del nastro. Nel taglio basso, il senatore Zanda al convegno del Partito Democratico, il Comune avrà i fondi per il bilancio. Tre anni in Parlamento per la Pezzopane. Il partito ha confronto in arrivo i 24 milioni per compensare le mancate entrate dovute al sisma. Andiamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Droga nel colon, due inchieste della procura, il ragazzo di 25 anni finito operato d'urgenza all'ospedale. Oltre allo spaccio di stupefacenti e anche lesioni gravi, gli inquirenti non credono alla sua versione, cioè che le ferite se le sarebbe fatte da solo. C'è un complice per salvargli la vita, necessarie 5 ore di intervento chirurgico, poi il coma farmacologico. Lo scontro sulla Marsicana, travolto da un camper, muore un 65enne Ovidio di Domenico. Nel taglio basso riapre il casino Torlonia, diventerà luogo di cultura e poi fallisce la rotosub operai in salvo. E ancora sul Mona comunale il PD non scende in campo e ad Avezzano tentato omicidio. L'imputato non risponde. Daniele Luce, 28 anni di Borgo Rose, attaciuto davanti al magistrato che l'accusa di tentato omicidio nei confronti dell'ex brigatiere dei Carabinieri Raimondo Di Lorenzo Di Magliano Dei Marsi. Adesso andiamo sulla città quotidiana della provincia di Teramo per vedere qualche notizia dal Teramano. Partiamo ovviamente dalla crisi in comune. Fratelli d'Italia tende la mano a Brucchi, Raimondo Micheli favorevole all'azzeramento di giunta, Tancredi e Dodo a cena per fare il punto sulla crisi. La soluzione è rimpasto a zeramento oppure tutti a casa. Queste le scelte a disposizione del sindaco Maurizio Brucchi. La polemica battibecco tra il coordinatore azzurro Vincent Fanini e Angelo Puglia, capogruppo della lista civica che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio che è un po' alla base della implosione della maggioranza di centrodestra al governo di Teramo. Nel taglio basso, inaugurata la grande festa del cioccolato in piazza, Andiamo avanti. Brucchi, l'ostacolo vero è il bilancio. Pomante attacca sull'anticipazione di cassa da 15 milioni, definita ormai fuori controllo. Teatro Romano, Meralangelo solleva il caso dei problemi su progetto e tecnici finiti anche sulle riviste di settore. Il Deor, d'Alberto chiede il conto della tassa di occupazione del Deor del Grande Italia indietro di anni. Il turismo accessibile, genere economia, simmi petaccia all'unità. Il tema della disabilità ha bisogno di professionisti preparati, non di retorica del bene. Asilo di piano solare evacuato per un falso allarme bomba, pronta l'installazione delle telecamere, indagano i carabinieri e poi la protesta davanti all'Einstein per le promesse non mantenute, allo scientifico studenti critici con la dirigenza. Andiamo in provincia. La storia di Lacchi riaccende la protesta, caccia la volpe, l'attivista radicale Laura De Berardinis salva un esemplare malato e lancia un nuovo appello sul no alla caccia. E poi mobilità sostenibile. La provincia di Teramo chiama tutti a raccolta. Invece per il turismo sul Gran Sasso, oltre allo sì, ci sono trekking e mountain bike. Chiesta archiviata sul Toga Party a Tortoreto. La festa era finita al centro delle polemiche e delle indagini dei carabinieri. A Nereto, beccato con 90 grammi di coca in manette, il pusher della Movida. Andiamo a Tortoreto. I dissidenti riconsegnano le deleghe al sindaco Ricchi. I chichettiani chiedono di azzerare la giunta. Prosegue il muro contro muro. La pagina di Giuliano Vamosciano. Pagate le ferie al funzionario in pensione. Linea retta denuncia l'atto illegittimo del comune che ha saldato il non goduto. E poi pistole e fucili illegali denunciati due giovani dai carabinieri di Giulianova. Andiamo ancora avanti. Cancelli sbarrati alla società di calcetto. Il Citi afferma di non essere stato pagato, ma la squadra deve giocare la partita a clu per quanto riguarda Atri. Andiamo adesso sul centro e andiamo ad aprire la pagina dedicata allo sport. Per andare a vedere ovviamente la partita delle Pescara. Giocata ieri l'anticipo con il Cesena ha finito 1-0 per i Biancazzurri. Spettacolare. La Padula fa il fenomeno. Il Pescara fa festo. Una rovesciata assegna i tre punti al Delfino. Oddo dice, ragazzi straordinari, non era per niente facile la partita contro gli uomini di Drago che ha detto che sarebbe stato più giusto un pareggio, ma tant'è. La partita è finita 1-0 per il Pescara con il super gol di La Padula che andiamo a vedere nel servizio di Paolo Renzetti. Un gol pazzesco che da solo vale il prezzo del biglietto, ma soprattutto tre punti di platino in uno scontro diretto play-off che lancia il Pescara ancora più in alto in classifica con nuove certezze, nuove convinzioni alla vigilia della gara di La Spezia e delle ultime sei giornate di campionato. In riva all'Adriatico i tifosi, tornati numerosi allo stadio, hanno finalmente ripreso a sognare grazie ad un Delfino che ha saputo stringere i denti e mostrare il suo lato migliore in una gara tutt'altro che semplice. In campo c'è il solito Pescara rimaneggiato. All'ultimo momento da forfè anche Gianluca Caprari con Oddo che ritrova almeno Zampano in difesa e Torreira a centrocampo. Sulla tre quarti è Mitriza a fare da spalla Pasquato. Nelle Cesena riflettori puntati sugli ex biancazzurri Cascione, Cone e Ragusa, autore all'andata del gol vittoria dei Romagnoli. Al secondo minuto si vedono subito i padroni di casa con un tiro dalla distanza di Capitano Memuschai che termina sopra la traversa. Al tredicesimo arriva la risposta ospite con una conclusione centrale di Antonino Ragusa. La gara è equilibrata con gli ospiti però più pericolosi prima al ventesimo con Fiorillo che smanaccia una palla vagante in area di rigore e poi con lo stesso portiere Biancazzurro che respinge da campione su tiro ravvicinato di Ciano. Ma l'occasione più ghiotta capita al trentunesimo sui piedi di Gianluca Lapadula che in area scarica addosso a Gomis che riesce a salvare porta e risultato. L'equilibrio la fa da padrone con i Romagnoli che si rivedono poi al trentottesimo ancora con un tiro di Ciano che termina non lontano dal montante della porta adriatica. Il finale di primo tempo vede ancora tanto equilibrio con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi con uno zero a zero, tutto sommato giusto. Si ricomincia nella ripresa con gli stessi 22 di inizio gara e con ritmi abbastanza compassati e con le due squadre che dimostrano di temersi a vicenda. Al quindicesimo nel Cesena esce un'impalpabile Ragusa e dal suo posto entra Garritano prima dell'azione del diciassettesimo con Lapadula che di testa trova ancora una volta il miracolo di Gomis. Il Pescara si lascia preferire per una manovra più fluida. La squadra di Oddo preme ma il Cesena regge con il tecnico Biancazzurro che manda in campo Cappelluzzo qualche attimo prima della rete pazzesca in rovesciata di Gianluca Lapadula che su perfetto lancio di Pasquato al trentatresimo fa esplodere i 10.000 dell'Adriatico andando poi ad esultare sotto la curva nord per l'ex Terramano seguito in tribuna dai dirigenti dell'Aikster di Ranieri. I gol all'attivo diventano 22. Il finale di gara vede ancora al trentacinquesimo un tirallato di Verre e al trentottesimo una punizione brivido di Ciano che scheggia il palo con la sfera che termina di poco sul fondo. Ciano ci riprova al quarantesimo svirgolando però clamorosamente in area bianca azzurra prima dell'ovazione dei tifosi di casa nella settimana che ha dato il via ai festeggiamenti per gli 80 anni del Delfino. Lo Spezia è avvisato. Il Pescara è tornato. E dunque la Padula Show all'Adriatico e anche questo il titolo del centro per quanto riguarda il focus sul bomber. La Juve a Sebastiani che gol ha fatto? Questo è il messaggio delle DS paratici a fine gara al presidente del Pescara ma in pole c'è il Genova il club di preziosi vuole il capocannoniere Caprari e nei giorni scorsi ha incontrato il presidente operazione da 10 milioni. Ovviamente se la Padula continuerà a fare questi gol è chiaro che si scatenerà un'asta a fine stagione per assicurarsi il bomber del Pescara. E poi restiamo sempre alla Serie B la trentasesima giornata vede anche la sfida al Francioni di Latina tra Latina e Lanciano. Il Lanciano sfida Gautieri e scontro per la salvezza Latina Frentani in emergenza nelle retrovie e c'è il dubbio Rigione dopo tre sconfitte di fila la squadra di Maragliulo è chiamata a dare un segnale di vitalità in attesa che venga resa nota la sentenza sulla nuova penalizzazione. Grande ex la seconda volta contro il tecnico della promozione in Serie B si parla ovviamente di Gautieri e poi i precedenti il bilancio è favorevole ai rossoneri e speriamo che il Lanciano possa riuscire a portare a casa i tre punti. Andiamo in Lega Pro il Teramo Vivarini la salvezza grande traguardo dopo tanti problemi il tecnico stagione devastante a livello mentale Caso Savone incidente probiatorio rinviato al 13 di maggio e poi l'Aquila con Bruno Cosentini in difesa problemi nelle retrovie per il neotecnico Modica costretto a rinunciare a Pesoli e Maccarrone Andiamo avanti il rugby l'Aquila con un piede in A dopo la sconfitta a Piacenza Nero Verdi battuti 18 a 12 aumenta a 10 punti il distacco dagli emiliani per salvarsi serve un miracolo viste le gare difficili con Lazio e Sandonà poi Roseto ha esauriti già 200 biglietti per Re Canati per quanto riguarda il basket ancora basket la Proger far festa per la salvezza l'ingresso è gratis Andiamo avanti il calcio a 5 di Serie A il Pescara cadde nella tana dell'Asti sfuma il sogno del primo posto e poi la palla a volo l'altino promosso in B1 donne se vince anche a Scafati e ancora per la palla scusate per la palla a nuoto le pescaresi impegnate in trasferta il floorball l'Aquila finale scudetto per il terzo titolo consecutivo e le bocce raffa l'Aquila in casa vuole accorciare il meno 2 dalla vetta questo per quanto riguarda la nostra rassegna che termina qui mattino 6 torna lunedì alle ore 7 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 oggi ovviamente c'è anche diretta stadio per seguire in particolare la partita del Francioni tra Latina e Lanciano grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.